C'era e non c'era una volta un elefante che un giorno fu portato in un salone ampio e buio, inizio. Nell'oscurità non si capiva di cosa si trattasse, poiché le forme del pachiderma non si vedevano chiaramente occhio nudo. Quattro persone entrarono nella stanza. Erano quattro eruditi, invitati dal padrone di casa. L'uomo conosceva bene la reputazione di tutti e quattro, sapeva che erano grandi studiosi, per questo aveva deciso di sottoporli a una prova. Avrebbero scoperto che si trattava di un elefante nonostante l'oscurità? Vediamo se sono veramente così saggi come dicono, o se la conoscenza che si attribuiscono è solo immaginaria, pensava fra sessi e l'uomo. Ed erano così saggi? Ci sto arrivando, la freno. Nel salone era buio pesto e gli studiosi riuscivano a malapena a camminare. Uno di loro si avvicinò all'elefante, toccandogli un orecchio, e subito annunciò le sue conclusioni. Ma certo, amici, si tratta di un ventaglio enorme, disse. Un altro si fece avanti, un po' perché voleva contestare il collega, un po' perché l'ipotesi gli sembrava frettata. Ma anche lui esclamò subito di aver compreso la natura dell'oggetto, e, dopo aver toccato una zampa dell'elefante, constatandone la durezza, dichiarò che si trattava di una colonna. Iassi scoppia a ridere, e siccome ho la sua attenzione, mi impegno ancora di più nel raccontarle la storia. Grazie a tutti.